Modo Zero nasce dalla ventennale esperienza della Mastruzzi in ambito di progettazione, fornitura e posa di arredi destinati agli ambienti lavorativi e ha come visione il benessere ambientale, la creatività e la produttività delle persone che ci abitano. L'essere umano ha bisogno di essere messo in contatto con la natura per rigenerarsi e smaltire lo stress quotidiano e per questo l'architettura biofilica ci permette di progettare ambienti che riducono lo stress. Modo Zero crea e ristruttura il tuo ambiente lavorativo sollevandoti da tutti i pensieri, un unico referente per l'intero progetto.